eccoci pronti per preparare i nostri felafel o falafel oppure polpettine di ceci allora è una versione rivisitata non è la versione classica allora io utilizzerò al posto dei ceci quelli secchi ammollati per 24 ore i ceci già cotti sciacquati bene ne aggiungo direttamente nel dopo di che vado ad aggiungere dell'aio utilizzo questo secco dopo di che aggiungo mezzo scalogno poi sistemo di sale dopodiché aggiungo un pizzico di curry che potete anche non mettere un po di succo di limone come vi dicevo una versione rivisitata non è la versione originale dopo di che vado a spezzettarci del prezzemolo fresco che ho lavato e asciugato e infine ho aggiunto qualche seme di lino questo è sempre a vostro gusto chiudo e iniziamo a frullare a questo punto prima di terminare di frullare il tutto aggiungo dell'olio extravergine d'oliva e continua a frullare una volta frullato possiamo procedere a preparare le polpettine quindi ho inumidito un po le mani vado a dare una forma abbastanza appiattita e vado a ripassare la polpettina nel sesamo voi potete anche a non farlo ed eccola qua e la metto in un piatto che ho rivestito con carta forno e proseguo così con le altre ed eccole qui i miei falafel sono pronti adesso li faccio riposare in frigo per almeno un'ora dopodiché le cuoceremo in forno se voi non volete cuocerle in forno potete cuocerle in padella e friggerle dopo averle lasciate riposare in frigo un'ora possiamo infornarle in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 20 minuti comunque finché non saranno dorate in superficie i miei falafel sono pronti per essere gustati sono stati in forno a 180 gradi per 20 minuti guardate che meraviglia si possono accompagnare ad una salsina allo yogurt oppure a quello che preferite salsa di soia maionese ketchup quello che preferite però la salsa indicata la migliore è quella allo yogurt e niente ragazzi spero che questa versione un po' rivisitata vi sia piaciuta se provate a farli scrivetemi tutto nei commentini oppure taggatemi in instagram con le vostre foto e se non siete ancora iscritti al canale avete piacere iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i miei prossimi video io vi mando un bacio ci vediamo alla prossima ciao